Una donna di 48 anni di Zibello è rimasta ferita, fortunatamente in maniera non grave, a seguito di uno scontro fra due auto avvenuto all'altezza del ponte su Longina, tra Polesine, Zibello e Villanova sull'Arda, intorno alle 21 di ieri. Sull'altra auto si trovavano quattro persone e dagli accertamenti è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico di quasi cinque volte oltre il limite massimo. L'uomo è stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza, gli è stata ritirata la patente e sequestrata l'auto. Sul posto sono giunti i carabinieri di Villanova e di Fiorenzuola d'Arda, i vigili del fuoco di Fiorenzuola e i mezzi del 118. Sul ponte, dal 21 novembre scorso, vige il senso unico alternato a seguito delle verifiche effettuate dalla provincia di Piacenza. Erano infatti emerse criticità dal punto di vista strutturale e sismico, perciò si era deciso di istituire il senso unico alternato regolato a vista, consentendo il passaggio di mezzi fino a 44 tonnellate.